E ora, i fratelli dello spazio, attraverso Wanda, a cura di Vubbi, parliamo diversamente da voi perché il nostro sapere è molto distante dal vostro, ma è ora che iniziate a sentire le vibrazioni e le voci che giungono fino a voi. Dovete risvegliarvi da tutto il torpore che vi opprime, aprirvi e comprendere che tutto è parte del tutto, una parola da voi ripetuta continuamente senza che ne capiate veramente il significato. Noi, messaggeri cosmici, ci avviciniamo a voi per escuotervi e rendervi partecipi che siamo migliaia e migliaia, milioni di forze, all'opera per il bene nell'armonia del creato. L'armonia sia in voi e prestate attenzione alle voci che vi giungono. Salve dai vostri fratelli cosmici.